Ciao a tutti e benvenuti finalmente all'estrazione del vincitore o la vincitrice del mio giveaway cartopazzo bag barra tiger uso. Allora innanzitutto volevo ringraziarvi a tutti per aver partecipato siete stati più di quelli che avevo previsto quindi mi fa tantissimo piacere mi fa piacere anche il fatto che abbiate apprezzato il fatto che sia un giveaway tra virgoletta sorpresa nel senso che vi ho detto che il contenuto riguarda articoli di tiger e non solo ma che comunque a tema cartoleria quindi cartopazzoso però non sapete effettivamente cosa c'è dentro quindi mi fa piacere che vi sia piaciuta anche questa idea quindi vi ringrazio e vi mando un bacione a tutti. Allora utilizzerò per pescare il vincitore o la vincitrice questo sito della Sandra Sirisart al cui interno c'è questa pagina con questa applicazione diciamo per caricare a caso un commento del mio video che andrò quindi qui a caricare l'ho già copiato il link sono 84 commenti che ho già verificato perché c'ho il computer sotto e adesso non si tratta altro che cliccare qui sopra quindi scopriamo finalmente che ha vinto quindi 3 2 1 vai no questo è il mio commento io non posso essere la vincitrice quindi riproviamo cioè tra tutti doveva uscire proprio il mio nome quindi non ho vinto io andiamo 3 2 1 vai ok ecco la vincitrice Anna Capurso mi ha scritto 7 commenti avevo detto ovviamente di lasciare tutti i commenti che volevate che siano di senso compiuto e lei mi ha scritto mi piacciono i video delle buste pazze appena riesco vado a comprare tanto comincio con una e poi se mi piace vado avanti con le surprise giustamente ha ragione perché a volte come sappiamo nelle buste sorpresa ci trovano un po' di ciofeche però è anche il bello della sorpresa insomma è anche quello cioè lo sai che la vai a comprare senza avere la certezza di trovare qualcosa che magari ti possa essere utile o meno quindi chiudiamo questo discorso congratulazioni Anna Capurso ti lascio sotto l'info box la mia mail nella quale mi devi contattare entro 5 giorni quindi oggi è sabato lasciamolo finire perché adesso lo pubblicherò stasera quindi domenica lunedì martedì mercoledì giovedì entro giovedì mi devi contattare se no farò una nuova estrazione mi raccomando quindi contattami per quanto riguarda tutti gli altri mi dispiace che non abbiate vinto ma purtroppo c'era solo un vicitore questa volta però vi ripeto rimanete sintonizzati perché ce ne saranno assolutamente degli altri visto che questo giveaway è andato bene l'unica cosa è che i prossimi saranno diciamo da maggio perché sto abbiamo stiamo comprando casa quindi tram fine marzo aprile traslochiamo quindi saranno dei mesi un po' balordi però va sicuro che ci saranno dei nuovi giveaway e se avete anche idee da proporvi di temere sia di video sia di cose che che vi possono interessare eccetera perché sono molto molto contenta che mi scriviate anche delle vostre richieste che ho ricevuto anche tramite questi commenti del giveaway quindi sono molto molto contenta quindi di nuovo congratulazioni anna mi raccomando scrivimi e vi ringrazio nuovamente a tutti vi rimando un bacione e buona serata ciao ciao ciao